Atto terzo tra Ionica e Città di Taormina, che dopo le due sfide inaugurali in Coppa si affrontano nel recupero dell'ottava giornata del campionato di eccellenza. Il Città di Taormina cerca continuità dopo la vittoria sulla Nebrus e uno squillo che rafforzerebbe la posizione nelle zone altissime della classifica. La Ionica invece vuole insidiare sempre più da vicino le battistrade a Racusa e Igea. Ci sono tutti gli ingredienti per una partita di altissimo livello. Furneri deve fare a meno anche di Emanuele, ma ritrova Angelo Strano in campo dal primo minuto dopo tre settimane di assenza. L'ex Jarro staziona al centro della difesa davanti a Cernigliaro e con Sardo e Amante ai suoi lati. In mezzo al campo, accanto al play Quintone, ci sono Salvo Strano e Pantano. Sulle corsie esterne confermati Gina Go e Urso. Davanti c'è il tandem Abate e Famà. Ancora assente lo squalificato Marco Trovato, che tornerà disponibile domenica a Via Grande. Arbitra all'incontro il signor Francesco Comito di Messina. Strano contro la palla in cerchio di centrocampo, lo scambio con Charlie Famà. Avanza Strano, arriva al limite, carica il destro, palla alta. Micoli fermato da Angelo Strano. C'è Pappalardo col destro, Cernigliaro respinge in tuffo. Tapares e Gagliardo va a Tapares con il sinistro che gira. Cernigliaro si rifugia in calcio d'angolo. Sviluppa a destra adesso la manovra della Ionica, palla un po' lunga per Antonio Esposito che la tiene in campo. Uno sguardo dietro dove arriva Pappalardo, il destro. Cernigliaro in calcio d'angolo. Urso. Salvo Strano di prima, verso Abate. Raso terra che Haneco Romano blocca a terra. Quintoni sventaglia con il Mancino. A sinistra dove si accentra Orazio Urso, fa partire il destro, palla alta. Gagliardo, gran numero, palla retrata. Pappalardo salva Sardo, poi ci prova Micoli. E un doppio salvataggio, triplo quasi, Abate. Poi Urso, perfezione il disimpegno. La plaza, larga a destra, verso Peppe Savoca. Il capitano della Ionica cambia completamente. Gioco per Micoli, che la incrocia di testa e fa 1-0. Gran gol dell'attaccante argentino. Pantano a filtrare verso Razio Urso. La palla dentro con il sinistro. Romano blocca senza particolari difficoltà. Quintoni ci prova dai 25 metri. Romano lo aspetta lì e blocca. Gina Gò, palla dentro. La libera la difesa. Urso la fa scendere col sinistro. Palla sfiora la traversa. Va sul fondo. Micoli resiste ad Angelo Strano. Poi si rialza Micoli. La palla dentro. Cirligliaro, grande intervento. C'era la plaza tutto solo. Il centro dell'aria è piccola. Savoga stacca di testa. Lì si alimenta l'azione della Ionica verso Antonio Esposito che sfonda sinistra. Va al tiro. Palo pieno. Si salva la città di Taormina. Adesso Gina Gò. Un'occhiata dentro. Prova la sforbiciata. Bate. Romano blocca. La plaza allarga a destra. Per il solito Antonio Esposito. Praterie da quella parte per Esposito. Fermato ancora da Cirligliaro. Sardo. Disimpegno corto. Gaggiardo. Esplode il destro. Valla a lato. Gaggiardo. Fallo di Amante. Intervento in scivolata. Duro. I Peppe Amante. Addirittura cartellino rosso. Sono un po' esagerata la decisione. Signor Comito di Messina. Esposito adesso si è spostato a sinistra. Punta alla porta. E ancora Cirligliaro a dirgli di no. Salvostrano. Tocco su Biondo. Che si accentra. Destro di Biondo. Romano. Fara a terra. Esposito. Numero. Il tiro. Cirligliaro salva. Poi Chimentao. Respinge la difesa. E poi traversa ancora di Antonio Esposito. Parla dentro di Salvostrano. Libera la difesa. C'è Urso con il destro. Valla abbondantemente l'arca. C'è in profondità. Saccullo. Va da sponda verso Dennis Castorina. Che si libera il sinistro dal limite. Palla esce di un soffio. Si spengono qui le speranze del Città di Tavormina. Di riequilibrare il punteggio. La Ionica conquista tre punti fondamentali in chiave promozione. Città di Tavormina la prima battuta d'arresto quando Peppe Furnari in panchina.